Il contenuto dell'articolo Come incollare unghie finte Come rimuovere le unghie finte Che cosa sono le unghie finte Unghie finte per i bambini Unghie finte autoadesive Unghie finte corte Come scegliere unghie finte Ogni donna ha il suo approccio alla cura delle mani Alcuni sono follemente innamorati Di unghie stese, altri, la naturalezza e la salute di un piatto naturale Altri, apprezzano la praticità dei falsi suggerimenti Quelle ragazze che preferiscono i trattamenti casalinghi al salone Fanno date manicure e spesso usano unghie artificiali Come incollare unghie finte Quelle ragazze che hanno usato le punte delle unghie Hanno apprezzato appieno il loro vantaggio E oggi è diventato possibile attaccare Le unghie finte senza l'aiuto di un maestro a casa Per imparare a incollare correttamente le unghie È meglio andare a una manicure professionale una volta Puoi seguire tutti i passaggi del master in più fasi In modo che a casa puoi provare a fare la stessa cosa Solo te stesso Esiste un certo schema su come incollare le unghie Sia in un salone che a casa Quindi prima di iniziare Familiarizza con lo schema Generale Prima di iniziare la procedura È necessario prendersi cura dei materiali Per lavorare con le punte delle unghie avrai bisogno di Set manicure Punte per unghie di diverse dimensioni Colla per unghie finte Smalto base Sgrassatore per la piastra Un contenitore con acqua calda Un panno per rimuovere la colla Le placche artificiali vengono incollate solo dopo la manicure e le unghie sane Una curva della cuticola o i resti di vernice possono Facilmente rovinare il lavoro e la presenza di infezione Fungo può portare a gravi conseguenze Sotto la colla L'infezione esistente sulla piastra si svilupperà più rapidamente Dopo la manicure È necessario macinare e sgrassare la piastra Applicare una base di vernice medica per incollare uniformemente il cuscinetto Dopo che la vernice si asciuga Viene applicato uno strato uniforme di colla speciale Per distribuirlo meglio Puoi usare un bastoncino arancione Immediatamente dopo aver applicato la colla Vengono applicate le punte della dimensione richiesta Che devono essere selezionate in anticipo La colla per manicure si asciuga rapidamente Quindi qualsiasi ritardo può rovinare la presa I resti di colla che fuoriescono da sotto il piatto vengono puliti con un tovagliolo Per saperne di più sci di fondo Pattinaggio e sci classico Come rimuovere le unghie finte Per la manicure domestica Usando i suggerimenti è importante sapere non solo come attaccare Ma anche come rimuovere le unghie finte a casa Poche persone possono indossare le punte per molto tempo Soprattutto perché è pericoloso abusarle Le piastre artificiali possono essere lasciate solo per 12-14 giorni Se durano più a lungo Quindi la comparsa di malattie È probabile che i funghi Puoi rimuovere le unghie finte nel salone Ma a casa puoi farlo Fai un bagno d'acqua calda Posiziona la punta delle dita per 15 minuti Quando la colla si dissolve Puoi staccare la punta con un movimento regolare dalla base della cuticola Rimuovere la colla con solvente Asciugare le dita e applicare lo smalto sulle unghie Che cosa sono le unghie finte? A seconda delle tue preferenze Abilità e desiderio di attingere al design di unghie finte I negozi offrono molte opzioni per i suggerimenti 2. Trasparente Con un colore naturale e un design finito È meglio scegliere materiali dai produttori di prodotti professionali per nail art Nei negozi online e nei saloni professionali Puoi acquistare le seguenti opzioni per consigli solidi alla moda 1. Forme trasparenti di Cody Professional Modello Cancella normale prezzo 300p per 100 pezzi Caratteristiche Realizzato in plastica di alta qualità Resistente Facile da usare Venduto in una confezione conveniente Punto e virgola Vantaggi La possibilità di creare qualsiasi disegno Contro Richiede un'applicazione aggiuntiva di uno sfondo o modello 2. Forme di colore naturale di Cody Professional Modello Naturale Prezzo 280-300 rubli per 100 pezzi Caratteristiche Materiale Plastico di alta qualità di forma ovale Elastico Resistente Non si screpola Vantaggi La capacità di creare qualsiasi progetto La capacità di utilizzare la minima quantità di copertura Contro Non adatto per nail art con inserti trasparenti Per saperne di più 5 modi naturali Per sbarazzarsi di punti neri e cicatrici 3. Una serie di consigli da Kiss Modello Francese Eterno Prezzo Da 400R Per 28 pezzi Caratteristiche Materiale plastico di alta qualità Con una forma quadrata refinita Design Vantaggi Creare un'immagine Con il minimo tempo e fatica Contro Solo una classica manicure francese viene creata con una determinata piastra Ad alto prezzo Unghie finte per i bambini La popolarità significativa è goduta non solo dalle donne Ma anche dalle unghie finte per i bambini Quindi la gamma di tali prodotti Per le unghie dei bambini è ampia Un bambino può scegliere un design ovale Rotondo o quadrato con splendide immagini luminose raffiguranti Personaggi preferiti di fiabe e cartoni animati Le unghie incollate sulle dita dei bambini possono causare sfiducia in molte madri che le considerano dannose I produttori collaudati si sono presi cura della sicurezza utilizzando plastica sicura e vernici, scintille e pellicole brillanti ma innocue Unghie finte autoadesive Per creare la bellezza desiderata sulle dita, come nella foto su internet, è possibile sostituire le punte ordinarie con unghie autoadesive La procedura di montaggio per tali modelli è più semplice e una manicure non può essere meno spettacolare L'unico inconveniente di questo prodotto è che non durerà a lungo per attaccare il materiale adesivo, soprattutto se non è sufficiente Sgrassare l'unghia prima di attaccare e spesso bagnare le mani in acqua calda, ad esempio, quando si lavano i piatti o sotto la doccia Unghie finte corte Una parte significativa delle donne preferisce una manicure non lunga, ma corta È più conveniente, pratico e, soprattutto, più in linea con le tendenze attuali Le unghie finte corte sono una vera salvezza per coloro che vogliono diventare nail art alla moda e poco costosi I modelli corti sono talvolta difficili da distinguere da una calendula naturale, solo dipinta Il costo di una tale manicure sarà inferiore, tuttavia, lo spazio per un design elegante delle unghie sarà limitato Per saperne di più come dipingere gli occhi con una matita è bello e corretto Trucco degli occhi passo dopo passo, foto e video come scegliere unghie finte Puoi acquistare consigli in un salone professionale, dove i maestri ti consiglieranno, ti aiuteranno a scegliere il materiale giusto Per le tue unghie, ma un tal acquisto può essere molto più costoso rispetto all'ordinazione online I cataloghi con le descrizioni dei prodotti sul sito web e alcuni suggerimenti su come scegliere la manicure giusta per te ti aiuteranno Ad acquistare l'opzione adatta a te nel negozio online Se vuoi riordinare rapidamente le unghie per una sera, senza pianificare una lunga usura, l'opzione di piastre autoadesive e flessibili è adatta a te Tali unghie costeranno meno, ma è meglio non scegliere l'opzione più economica, ma acquistare prodotti da marchi professionali Se hai intenzione di progettare te stesso, allora le lastre trasparenti o naturali faranno al caso tuo Prestare attenzione al prezzo e al produttore Tale prodotto, se è di alta qualità, non può essere economico Leggi le informazioni sulla confezione La descrizione dovrebbe contenere plastica per scopi cosmetici Questo articolo si applica anche alla selezione di prodotti per bambini Le unghie finte corte sono più spesso vendute già con un rivestimento e una dimensione di colore finiti Quando ordini un prodotto del genere, leggi i parametri indicati della descrizione per evitare situazioni in cui le punti delle unghie E delle unghie variano di dimensioni Quando si scelgono prodotti per manicure per bambini, è meglio contattare i professionisti e valutare la qualità dei prodotti prima dell'acquisto I piatti di plastica dovrebbero essere sicuri per le dita dei bambini, quindi i bordi delle unghie dovrebbero essere morbidi in modo da non danneggiare il cuscinetto delle dita dei non bambini I per bambini